Non parlare col padre senza essere in pace col fratello. Tre criteri. Un criterio di realismo, un criterio di coerenza, cioè non ammazzare ma non insultare pure, perché chi insulta ammazza, uccide. E' un criterio di filiazione. Non si può parlare col padre se non posso parlare col mio fratello. E questo è superare la giustizia. Quella degli escrivi e dei farisei. Questo programma non è facile, ma è la via che Gesù ci indica per andare avanti. Chiediamo a Lui la grazia di poter andare avanti in pace fra noi, sia con gli accordi, ma sempre con coerenza e con spirito di filiazione.